Raccontare gli aspetti più originali di uno strabiliante artista, magari anche contrastanti con la nomea di violinista del diavolo. È il libro Niccolò Paganini, note di una vita sopra le righe, realizzato dai fratelli Pedrazzini, Alessio, Marco e Alberto, rispettivamente medico, musicista e architetto, insieme con uno degli ultimi discendenti del maestro, anche egli chiamato Niccolò Paganini. Il volume, edito da Monte Università Parma e giunto alla terza ristampa, è stato presentato nella città della Liuteria dal chirurgo ortopedico Alessio Pedrazzini, responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Oliopo, nell'ambito della conviviale del Rotary Club Cremona Monteverdi. Il club, preseduto da Cristina Coppola e inserito nel gruppo Stradivari del distretto 2050, si riunisce ogni secondo e quarto lunedì del mese presso il ristorante Il Violino, nel cuore del centro storico, ogni volta con un ospite che possa accrescere le competenze professionali dei soci. Stavolta la cultura è stata protagonista con un Paganini inedito. L'amore per il figlio Achille, per l'unico figlio, avuto in età ormai avanzata, per la sua monificenza anche nei confronti di molti suoi amici, come Berlio, ma anche sicuramente per le vicende umane che lo hanno lasciato spesso molto solo e spesso non capito dai suoi contemporanei, come poi la situazione anche del fine della sua vita e la sua successiva mummificazione. Note di una vita sopra le righe analizza diversi aspetti di Paganini, dal ruolo di spicco avuto nella musica alle numerose proprietà terriere dell'artista a Parma e altrove, fino al suo rapporto con la medicina. Un paziente famoso che quando si trovava a Parma veniva visitato dal medico di Maria Luigia, che era Giacomo Tommasini, o quando era a Parigi veniva visitato direttamente dal medico di Napoleone, che era Dupitren. Il volume si sofferma poi sulle teorie mai confermate che legano la genialità esecutiva del virtuoso del violino alla sindrome di Marfan, patologia caratterizzata da iperlassità delle articolazioni e dunque insolita mobilità delle dita. Interessante se riferito a colui che soleva dire «Voilà comment joue un paradis» ecco come si suona in Paradiso.